La proposta alla rete dei FabLab regionali per l'attrazione dei talenti mira la creazione di grandi poli per la formazione al trasferimento digitale di pubblica gestione situati in ogni capoluogo di provincia. Luoghi come i FabLab, laboratori locali interconnessi in una rete globale che facilitano l'inventiva delle persone fornendo accesso a strumenti di fabbricazione digitale. La trasversalità dei laboratori ad ogni settore produttivo favorisce una formazione dinamica e aderente agli interessi socio-economici propri di ogni territorio, favorendo allo stesso tempo l'interscambio culturale provinciale e regionale. Nella mia esperienza a FabLab o Liba sono entrato in contatto con numerosi studenti, ricercatori, start-up, professionisti e pubbliche amministrazioni, comprendendo il valore di questo posto per il futuro della formazione. Ad oggi i FabLab, presenti sul territorio nazionale, sono per il maggior numero di ridotte dimensioni e gestiti o attraverso associazioni culturali o start-up. Con la mia proposta, il valore di questi laboratori potrebbe essere garantito da una vasta utenza attraverso l'istituzione pubblica di questi poli culturali. La Puglia, in questa visione, può assumere il ruolo di promotrice fornendo al territorio di Foggia e al territorio di Lecce due grandi laboratori come il FabLab Puglia.